Quel momento in cui tutti si riscaldano, fanno esercizi e le prove sulla pista, è il momento di maggior tensione prima di una gara. Tutti i pensieri si accavallano, mille sensazioni, paure, ansie. Penso di non farcela, di essere stanca e di non essere abbastanza pronta. Credo che avrei dovuto allenarmi di più, così da essere più sicura di potercela fare e più convinta delle mie capacità. In quel momento la mia testa si affolla di pensieri inutili, come la paura di deludere le aspettative del mio allenatore e di mio padre, ma allo stesso tempo sensazioni opposte si scontrano. Mi sento carica, l'adrenalina cresce sempre di più man mano che si avvicina il fatidico momento. Forse perché quella gara era una delle più importanti della stagione e mai come quel giorno ero sotto pressione. È stato proprio quella volta in cui ho pensato a quanto fosse fondamentale la forza e la prontezza mentale più che le doti fisiche. Bastava solo volerlo, provarci, dare il meglio di me stessa nonostante la fatica. Tutto parte dalla mente, bisogna sconfiggere le proprie paure e quel giorno sono cambiate un po' di cose dentro di me. Il campo di atletica di Latina è un luogo importantissimo per me. Qui sono cresciuta sia come persona che come atleta e ho fatto molte conoscenze. Per me è una seconda casa. Passando molto tempo lì, tra allenamenti e gare, è un posto in cui riesco a sentirmi me stessa, svagando la mente e allontanando le preoccupazioni.